La colazione Sono Kellogg's Grazie 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 Siamo iniziati con La latte KELOS E' un'attenzione per serio Facciamo vedere bene la tazza Presa dallo yo-yogurt Vedete c'è anche il marchio Eccolo Yo-yogurt Bene Ecco Allora Presa il latte 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 conad Latte conad parzialmente scremato Sottile Oh cavolo Questa roba è pubblicità Oh cavolo Un disco è fabbrica Vabbè sicuramente non arriverà la finanza Marco Ho suonato la porta L'ho suonata la porta Viene No No Questa non Questa è��� Questa è questo Questa è la porta L'ho suonata